Spiaggia di lusso per cani check, hanno una loro piscina privata in cui possono tuffarsi come matti, ok stavo per chiedere, schizzarsi l'acqua in faccia, possono saltellare o semplicemente stare a mollo e relax. Hanno anche un'ora cani in cui possono stare da sole oppure con gli altri cagnolini e correre come se praticamente ci fossero domani. Possono chiamare o in questo caso invitare al gioco i cagnolini dei box vicini e sulla spiaggia hanno tutti un box personale in cui possono stare slegati a giocare, questo è il nostro, in cui possono anche giocare, in questo caso magnate brutto. Hanno anche un pezzo di spiaggia a tutto loro in cui possono tranquillamente fare il bagno e quindi entrare in acqua con noi. Hanno anche le docce per sciacquarsi dalla sabbia, bada come gli garba questo! Ma soprattutto sono trattati del lusso perché sono serviti e riveriti sia col cibo sia con l'acqua e in questo caso vabbè se sta a scuola tipo la granita, e possono tornare successivamente a prendere il sole. Adesso non avete più scuse per non portarli con voi!